rappresentare questa città sia all'interno del campo ma appunto diventare un personaggio simbolo di questa società ma a me piace mi piace questo questo atteggiamento questo approccio tra giocatore tecnico infatti il mister è un grande mister c'è ogni diciamo un buon mister devo fare aspetta e aspetta e stoppiamo stoppiamo devo qua sappiamo stoppiamo devo qua tranquillo faccio sul tecnico devo quasi ripartire si è giustissimo perché si è giusto si è proprio così si è proprio così è un gruppo formidabile dove è presente sia il talento che diciamo a livello umanitario si a livello umanitario grazie 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 grazie